buongiorno a tutti i cripto curiosi caspa non serve effettivamente a nulla non è vero secondo me ragazzi però è stato affermato una testata giornalistica importante ovvero forse andiamo a vedere che cosa ha detto in questo articolo ma più che altro andiamo a vedere se effettivamente caspa perché diciamo che nelle ultime negli ultimi giorni comunque si ha perso molti molto molto percentuale formando anche a livello grafico delle sezioni molto interessante quindi effettivamente potrebbe esplodere in questi giorni a breve lo vedremo in questo video andiamo effettivamente a vedere che cosa sta succedendo per caspa questo asset che sapete ragazzi ne sono abbastanza innamorato anche esposto perché naturalmente penso io poi queste sono mie diciamo ipotesi penso che sia veramente un progetto innovativo riguardo tutta diciamo l'innovazione all'interno della blockchain con il block dag ok questa rivoluzionaria formazione di blocchi in parallelo eccetera quindi blockchain velocissima eccetera 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 tutte cose che sappiamo sappiamo anche chi c'è dietro al progetto ovvero persone di spicco che hanno collaborato con ethereum e quant'altro comunque detto cioè non è questo il video per andare a vedere che cosa è caspa ho fatto un video in precedenza andiamo a vedere effettivamente che cosa sta succedendo a caspa e se in questi giorni effettivamente potrebbe andare ad esplodere o meno prima di iniziare ragazzi vi ricordo che vi lascio il link in descrizione del gruppo telegram venite che da qui a qualche giorno vorrei anche creare un bel gruppo all'interno di telegram un topic dove ci possiamo anche confrontare sui progetti visionare i progetti del vasto mondo cripto inoltre vi lascio il link di bitgate importante perché sta facendo un concorso con premi di 10 mila usdt per i trader più bravi verranno dati dei conti demo per partecipare quindi ragazzi si può fare tutto si può iniziare tutto senza case e si può poi naturalmente procedere ai premi e accedere ai premi se effettivamente passiamo delle fasi vi lascio il link qui sulle schede per andare a vedere come funziona questa cosa avete 19 20 giorni di tempo ad oggi e il link di mx circa uno degli exchange che uso io che si può utilizzare senza case ancora quindi ragazzi tutto ciò che andremo a vedere in questo video naturalmente non è un consiglio per andare ad investire sui asset in cripto attenzione naturalmente come sempre andiamo a vedere tutto quello che sta succedendo andiamo a fare delle ipotesi allora caspa ragazzi nell'ultima giornata ha perso un 7 per cento nelle ultime 24 ore ad ora nell'ultima settimana quasi un 7 per cento nell'ultimo mese ragazzi un 15,75 per cento ok detto ciò ora ci troviamo in questa situazione qui ci troviamo anche in una situazione dove i volumi però sono aumentati quindi un 57 milioni di dollari in volumi che lo porta al centesimo posto ad adesso con la market cap del 43 esimo posto ok diciamo che riguardo la tokenomics sappiamo tutto max supply di 28 miliardi e 700 milioni di gas e in circolazione ce n'abbiamo 23 milioni e 466 23 miliardi 466 milioni hanno un sistema di mining per chi fa mining su caspa che molto remunerativo ok si va a dimezzare ogni tot di mesi quindi diciamo molto ora non andiamo a vedere uno specifico perché l'abbiamo già visto naturalmente ragazzi ci manca solo ed esclusivamente ora non so se mi sbaglio ma il famigerato binance magari anche qualche altro exchange che non si conosce benissimo si hanno molte concetture al riguardo diciamo che si dice che alcuni wallet binance stanno comunque sia comprando hanno comprato enormi quantità di cassa ma andremo a vedere anche oggi che ci sono cose interessanti perché molte whale molte balene stanno effettivamente accumulando caspa ok e dopo lo andremo a vedere quindi ragazzi riguardo caspa che cosa può succedere andiamo a vedere andiamo a fare una piccola analisi del grafico dai vari listing ragazzi questo asset ha praticamente ha totalizzato ad oggi ragazzi se vediamo è arrivato a toccare comunque sia sono un asset che è arrivato a fare il 25 mila per cento ok quindi possiamo ben capire chi ha creduto nel progetto nella varie fasi di ICO del progetto non c'è stata presale se non mi sbaglio c'è stata nessuna presale c'è stata solo una fase sul si poteva andare a comprare insomma caspa a prezzi stracciati e ad oggi naturalmente chi ha creduto nel progetto è riuscito a portare a casa veramente delle belle somme ma arriviamo al dunque sul prezzo di caspa allora qui stiamo sul settimanale ragazzi abbiamo avuto diciamo i primi incrementi di prezzo li abbiamo visti qui ok naturalmente qui qui ok qui è andato a rompere totalizzando anche qui ragazzi nell'ottobre del 2023 fino a naturalmente sempre nel 2023 insomma alla fine di novembre è andato a totalizzare un 3 per un 305 per cento poi abbiamo questa fase qui ragazzi dove il prezzo è rotto diciamo trend line e è arrivato a totalizzare un più 72 per cento su questa fase qui se noi vediamo prendiamo in esempio queste due mega consolidazioni di prezzo ok andiamo possiamo andare a vedere che comunque sia si sta formando un pattern forse cioè forse no si sta formando effettivamente sono uguali quindi il prezzo potrebbe ancora un pochettino scendere però se andiamo a vedere qui in sostanza anche sulla sezione dei volumi abbiamo queste compressioni che sono abbastanza identiche sono identiche anche la conformazione più o meno dei triangoli ok non proprio identiche però comunque sia sembra sembra che il prezzo stia andando nella stessa direzione che è andato qualche tempo fa ok anche perché se vediamo sempre nello storico anche indietro si sono formati sempre diciamo queste mega consolidazioni sempre sul settimanale se andiamo a vedere sul mensile possiamo anche vederle qui naturalmente ok però andiamo a prendere ora il giornaliero così le vediamo meglio possiamo andare a fare delle ipotesi naturalmente allora qui abbiamo queste due belle consolidazioni che si stanno formando ragazzi quindi facciamole più precise io sono un po disordinato ok quindi ora naturalmente qui abbiamo i volumi come ben vediamo rsi che praticamente sul giornaliero ok magari l'rsi va bene vederla però l'rsi funziona meglio anche su time frame più piccoli però se possiamo andare a vedere che stiamo in zona di quasi scarico ok quindi può darsi che ci sia qualche diciamo la giornata domani dopodomani se stiamo sul concetto di questi due pattern possibile che il prezzo magari vadi a lateralizzare oppure vadi ancora a toccare dei minimi per poi naturalmente fare quello che ha fatto praticamente sia qui sia qui ok si dice non c'è due senza tre quindi naturalmente per chi è esposto in caspa magari speriamo ok che il prezzo effettivamente vadi a rompere poi se magari fa il ritester rompe ok oppure va a rompere direttamente un possibile scenario potrebbe essere questo anche perché effettivamente qui sotto nei volumi abbiamo evidente questa cosa abbiamo queste compressioni qui che vi dicevo prima che si sta verificando anche ora quindi potrebbe essere un possibile scenario naturalmente non è detto ragazzi però potrebbe effettivamente succedere questo però nel contesto nel contempo insomma metterci il carico è stato un articolo di forbes che ha dichiarato ora all'interno di forbes non lo possiamo vedere perché ci sono dei piani a pagamento e quant'altro comunque siamo su binance square sia è praticamente andiamo a leggere in sostanza quello che ha scritto forbes che ha pubblicato un elettrico di 20 criptovalute classificata come cripto zombie ok e tra cui c'è anche caspa e se andiamo a vedere infatti ecco qui qui nell'articolo poi si diciamo in sostanza va a farci vedere questo grafico ci mette in sostanza sono blockchain xrp cardano bitcoin cash litecoin internet computer e tino un classic stella stax e caspa ok che l'abbiamo qui caspa e poi teta fantomo nero a wave che non conosco algorand flow multiverse x bitcoin sv mina tezos e os ok fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con quello che ha dichiarato forbes e qui per esempio per esemplificare cosa siano cripto zombie forbes cita xrp come esempio affermando che ripple labs è un cripto zombie suoi token xrp continuano ad essere scambiati attivamente per un valore di 2 miliardi di dollari al giorno ma per nessun altro scopo se non la speculazione quindi in sostanza vanno a dichiarare che la nostra benamata caspa non serve effettivamente a nulla se non generare degli intro di naturalmente dal trading quindi ok fondamentalmente questo va a dire io naturalmente ci credo poco ok però diciamo che ha fatto una bella lista di cripto zombie forbes ok quindi potete anche essere d'accordo chi andrà a vedere questo video e quant'altro però nel contempo ci sono whale che stanno effettivamente accumulando questi caspa andiamo a vedere qui siamo sulla blockchain ok di caspa andiamo sul bloc sport di caspa andiamo a vedere i top address andiamo a vedere qui in sostanza i top 10.000 addre i primi 10.000 qui ce ne sono parecchi comunque vediamo dei gli indirizzi veramente con 2,7 per cento di caspa il 3,8 per cento di caspa questo c'è 895 milioni di caspa però effettivamente se andiamo a vedere qui su whale alert su twitter possiamo andare effettivamente a vedere indirizzi quelli aggiornatissimi che nelle ultime ore praticamente stanno comunque si accumulando caspa ok quindi per un valore di 1.131.000 usd 3.495.000 usd 1.414.000 usd eccetera 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 veramente ce ne sono tanti 3 milioni qui anche 24 recenti sono recenti 25 aprile l'altro ieri 24 ok un milione 2 milioni 2 milioni 2 milioni caspa 2 milioni 3 stanno comunque sia le quelle stanno spostando a accumulare caspa segnale positivo perché naturalmente che sta a significare che comunque sia effettivamente ci potrebbe essere un rilancio del prezzo o qualche notizia importante che deve uscire quindi ok già si sono posizionati per cavallarsi tutti i to quasi tutti i to casi tutti ok i token di caspa quindi seguire le quelle non è mai cosa sbagliata quindi vi volevo far vedere questo qui naturalmente phantom il phantom dag blog dag ecco qui qui abbiamo in tempo reale la creazione dei blocchi se andiamo a cliccare abbiamo tutti i lati tecnici riguardo al blocco ma questo già lo sapevate invece abbiamo varie notizie riguardo perché questa tecnologia è scalabilità decentralizzazione costo velocità sappiamo bene che caspa mira appunto a risolvere il trilemma delle block chain ovvero sicurezza decentralizzazione scalabilità quindi fornendo qui secondo vari articoli questo articolo un po così sei motivi per vendere il tuo dirium per caspa ok da prendere naturalmente con le pinze però dice scalabilità secondo chris caspa è nativamente scalabile sulla sua rete principale naturalmente un layer one caspa mentre dirium attualmente si affida soluzioni scalabilità di livello 2 questo è vero arbitrium ok ne conosciamo tante decentralizzazione è veramente decentralizzato a differenza di dirium che chris considerano altrettanto decentralizzato costo velocità lancio eco supporto energetico eccetera 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 poi abbiamo naturalmente vari altri articoli in cui danno una previsione per caspa entro al 2 dentro il 2024 da due ai quattro dollari identificando modelli come un pen rialzista che suggeriscono un breakout imminente ragazzi che più o meno è quello che siamo andati a vedere prima ok quindi diciamo che breakout ci potrebbe se ci deve essere ragazzi secondo me due tre giorni effettivamente potremmo uscire da questa zona ok questa zona qui ok definitivamente può darsi anche che non vedremo più questi prezzi prezzi riguardo caspa quindi detto ciò ragazzi importante seguitemi anche sulla mia community twitter ok quindi porterò avanti community twitter riguardo tutto quanto pubblicherò i miei video community telegram il link e descrizione gratis come mettere gratis un bel like a questo video ragazzi di supporto mi raccomando condividete il video alle persone interessate tutti link e descrizione nell'evento di bit cat non ve lo scordate andate a dare un'occhiata detto ciò ragazzi ci vediamo al prossimo video però fatemi sapere cosa ne pensate ciao a tutti